Signori buongiorno e signore buongiorno. Dopo una presentazione così posso andarmene a casa perché ovviamente l'aspettativa è troppo alta, poi mi hanno proibito di dire parolacce quindi sarò più noioso del solito. Io sono Gabriele, il professor Zanardi è rimasto a Pavia stamattina alle 6 e 1 quarto, quindi permettete se ogni tanto mi perderò qualche pezzo della mia cognizione. In realtà quello che Cristina che non smetterò mai di ringraziare per la pazienza, per tradurre lo zanardese che è il mio linguaggio in un testo scritto, dice è vero, noi abbiamo raccolto un sacco di esperienza da voi, perché io non smetterò mai di dirlo, voi siete il nostro vero patrimonio, perché con tutte le parole che certe volte si dicono, l'inclusività, la riforma, i bisogni educativi speciali, A noi come docenti siamo già dei bisogni educativi speciali, B tutti i nostri bambini sono dei bisogni educativi speciali, C bisogna imparare a tradurre queste idee in pratica. Perché se nelle nostre scuole manca addirittura ogni tanto la carta igienica, figuriamoci arrivare a dei livelli di inclusione che prevedono chissà quale articolazione mentale che in accademia forse funziona, nella vita quotidiana non molto. Quello che cercherò di fare con voi oggi è partire da quella robaccia qui, che è la roba di cui mi occupo io, cioè l'integrazione tra quello che fa il nostro cervello e l'esperienza. Immagino che tutti voi sappiate cos'è una risonanza magnetica, non vi faccio una lezione di neuronatomia, non è questo l'ame di questa presentazione, questa però è un'immagine un po' più sofisticata, si chiama DTI. E che cosa fa la DTI? Vi fa vedere cosa succede nel cervello di un essere umano dal vivo, mentre noi gli facciamo fare un compito cognitivo. Questo è un bimbo che è sdraiato in risonanza magnetica, figuratevi come si diverte, occhialini e cuffiette, gli facciamo vedere un filmato e una narrazione di una storia. La storia parla di un'astronave che si trasforma in una macchinina, poi si ritrasforma in un'astronave, vola e fa delle robe. E che cosa vediamo nel suo cervello? Vediamo che si accendono, vedete qui i lampi rossi delle aree, che sono banalmente le aree del cervello deputate alla comprensione uditiva, aree di verniche, piuttosto che a delle altre aree che rappresentano che cosa? La capacità del nostro soggetto di immaginare. Quindi di tradurre ciò che vede e ciò che sente, cominciate a mettervi via questi pezzettini, in un contenuto semantico che per lui è un significato. Ma guardate qui, di solito qui dico una parolaccia ma non posso dirla, sono stato già munito più volte ma prima o poi una ve la dico e non preoccupatevi. Guardate qua a un certo punto ci sarà un lampo più rosso, attenzione, boom, dovrebbe arrivare ora, è arrivato. Quello lì che cos'è? Pensiero desiderante. Il nostro bambino mentre ascolta una storia che gli racconta di un giocattolo molto bello immagina cacchio, lo vorrei anch'io. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che noi gli diamo come un'informazione linguistica uditiva non si ferma solo all'elaborazione di quello che gli sto dicendo ma crea un'emozione. Tradotto, oggi pomeriggio tornerete a casa dei vostri mariti che troverete spiaggiati sul divano in mutande, calzini e canottiera con una birra davanti al naso e guardando la loro faccia sapete già cosa avviene per i primi 30 secondi. A. Hanno commesso un errore. B. Non ve lo vogliono dire. C. Voi lo sgamerete dicendo tanto lo so che cosa hai fatto. No, non ho fatto niente. Ha messo il maledetto calzino nero dentro le lenzuola bianche in lavatrice creandovi un grigio. Le 50 sfumature di grigio nascono da questa visione, no? 50 sfumature di calzino perché di solito la lavatrice la faccio io e la faccio male. Che cosa vuol dire? Aspettative, pregiudizi, valutazioni cognitive derivano tutte da un'elaborazione di ordine corticale. Ma perché noi partiamo da qui? Perché i nostri nani sono degli esseri in evoluzione. C'è tutta una parte della loro evoluzione che non compete a noi, la parte perinatale, grossomodo fino ai 4 anni e mezzo d'età. Poi quando entrano tra i 4 anni e mezzo e i 5 nel sistema scolastico, entrano in contatto con un ambiente nuovo, con delle persone nuove, con dei compagni. E voi notate che qui c'è un'evoluzione del loro cervello che inizia a crescere, a modificare. Il cervello dell'essere umano arriva a completamento, quindi a maturazione, a cavallo tra i 21 e 25 anni d'età. Per il maschietto è 25, per la femminuccia 21 perché voi siete il sesso forte, non raccontate più balle. Siamo noi quei poveretti dal sesso debole, detti anche i primati col pollice opponibile. E questo tipo di costruzione corticale che cosa prevede? Prevede che più io informazioni lego a determinati vissuti, più quell'informazione diventerà forte, diventerà stabile, diventerà automatizzata. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che i miei bimbi che entrano a scuola portano un cervello in costruzione. Si sta costruendo. Quindi cos'è che determina una costruzione più o meno efficace? L'ambiente. Perché l'ambiente? Perché questa qua è una rappresentazione di una cellula che sta in una parte importante dell'ippocampo, che è la sede della memoria, che si costruisce e diventa più cicciona come me se colorata da un punto di vista emotivo. Cioè voi vi ricordate molto bene non solo determinate informazioni, ma quelle informazioni che sono anche codificate da un'esperienza positiva. Tradotto in volgare che cosa vuol dire? Che se diciamo a un bambino cretino, 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 per lui, lui è un cretino. Si comporterà da cretino e col cacchio che ascolta l'insegnante perché ormai ha sganciato un valore emotivo da un punto di vista dell'educazione didattica. Ma au contraire funziona anche il contrario, cioè se noi diamo una stimolazione per la quale lui si sente bravo, forse tenderà ad avere più quel comportamento che lo fa sentire bravo che non quel comportamento che lo fa sentire cretino. Come faccio a tradurlo in pratica? Lo faccio così. Questo è un test noto che si chiama il water maze test. viene presa una cavia, c'è un ratto, viene buttato in una piscina, questo ratto nuota a caso, ma qui sotto è nascosto un cilindro di plexiglass che non è visibile dalla superficie. Quindi il ratto ci inciampa. E che cosa fa? Mona non è una parolaccia. Non è mica Mona, quindi che cosa fa? Sale sul cilindro perché così non annega. Prendiamo il ratto, lo togliamo, lo asciughiamo, un paio di colpi di mesh non si tolgono a nessuno, il giorno dopo lo ributtiamo nella piscina. Lui che cosa fa? Gira ancora a caso? No, va direttamente sul cilindro di plexiglass. Perché? Apprendimento associativo. Ho fatto una roba, quella roba funziona, la rifaccio. Noi osserviamo solo un comportamento? No, che cosa osserviamo? Che questa struttura neurale, spina dendritica di un neurone, prima di quell'apprendimento è fatta così, dopo quell'apprendimento appaiono delle spine denditiche, cioè il neurone si modifica, perché lì sotto, volgarmente, viene depositato quel pezzo di memoria. Tradotto nel comportamento della vita quotidiana, guidare l'auto. Prima volta che avete guidato l'auto, mani 10 e 10, specchietto laterale, sudorazione profusa, anche un po' di caccarella, il genitore con la mano sul freno a mano, attenzione perché la signora che scappa, tiro io così non la investi, giusto? Oggi, dopo che guidate un bel po', che cosa fate? Sganciate. Vi mettete il gloster, il glister, il rossetto, il fard, venite addosso a me che sono fermo, ignaro del fatto che voi non mi vedete perché state pensando ai cavoli vostri, arrivate a casa e non vi ricordate neanche più che strada avete fatto certe volte. Vero? Automatizzazione. C'è un autore che si chiama Hans Pilner che diceva sezione verticale, presto un sacco di attenzione a quello che faccio, mai il calzino nero in lavatrice. Più volte lo faccio, più il mio sistema diventa orizzontale, cioè mi automatizzo. Chi ci dice che insegnare le tabelline come abbiamo la pretesa sia il metodo corretto per un bambino di imparare le tabelline fatte così? Punto di domanda. è un pregiudizio. Non è mica detto. Perché non è mica detto? Perché questa è una simulazione di quello che avviene come fase di apprendimento in tutte le nostre teste. C'è una fase di input dove ci cacciamo dentro delle informazioni, ci sono delle hiding units, cioè delle unità nascoste che sono come funziona il nostro cervello, e poi c'è un output, quello che io produco. Quindi io faccio vedere a un bambino due immagini e lui dovrebbe dirmi, scusate l'inglese, questo è un cane. E i dislessici? Che vi dicono God invece che Dog? E voi li guardate dicendo non posso dirla, sarai mica quella roba che voi sapete tipo Mona? e il bambino vi guarda e dice no, ma è giusto. God è Dio. Lui che cosa ha fatto? Ha fatto un'inversione di lettere, ha costruito un'altra parola che per lui è dotata di significato perché Dio ha un senso, peccato che l'appiccica a un'immagine che è scorretta. E molti insegnanti, ma anche noi che facciamo ricerca e valutazioni cliniche, facciamo molta fatica a capire che cosa succede nella testa di quel bambino lì. E molte volte lo confondiamo per è disattento, è svogliato, non c'ha voglia, la rave la fava. In realtà non è così. Vuol dire che nelle sue hiding units succede qualcosa che fa un cortocircuito. Beh, ma se fosse così dovremmo avere dei bambini che non riescono ad imparare. Perché? Questo modello ci spiega che gli input entrano in determinate capacità cognitive che servono per elaborare quel tipo di sistema. se sono cose già note vanno direttamente all'interno del nostro magazzino di conoscenze già acquisite, guidare l'auto. Se è una cosa nuova come guidare un'auto col cambio automatico, devo fare tutto un altro tipo di elaborazione che fonda la propria natura su una cosa fondamentale, il ragionamento. Primo punto, non posso parlare male degli invalsi perché altrimenti la mia collega mi guarda malissimo, anche se non servono un cappero, sono solo una perdita di tempo, anzi, hanno una loro funzionalità solo se, visto che qualche applauso lo strappò ancora, ve lo ripeto, hanno una loro funzionalità se fatti bene e poi lei che è bravissima vi spiegherà come sono fatti bene quelli di inglese, giusto? ma noi dobbiamo far imparare i nostri bambini il concetto di frustrazione, solo attraverso la frustrazione noi possiamo acquisire informazioni, dobbiamo smetterla di produrre dei bambini che hanno il diritto di avere dei bei voti, non è un diritto, deve essere un apprendimento, attenzione però, la frustrazione deve essere guidata, non deve essere punitiva, deve essere costruttiva e allora il bravo insegnante che cosa fa? Cerca di trovare qual è quella modalità che non è frustrante ma che è costruttiva, come? Attraverso quella roba qua, guardate che voi lo fate già in classe, siete già qui, ma certe volte non lo fate in una forma automatizzata, non lo fate in una forma strutturata o semplice, ma vi chiedo un doppio lavoro, perché dobbiamo portare i nostri bambini a riflettere su come e come apprendo e perché lo apprendo e come lo faccio, capire come la loro riflessione possa avere degli errori, cioè possa avere un'interpretazione sbagliata della realtà, usare un approccio multiplo, ci sono dei bambini che funzionano benissimo da un punto di vista verbale, ci sono dei bambini che funzionano benissimo da un punto di vista iconografico, stili cognitivi, poi ne parleremo, procedure e processi, come faccio ad arrivare alla soluzione di quel problema, punto di domanda, e se io interpretassi pezzetti del mio problema in una forma sbagliata, un bambino dislessico per elaborare tre righe, usa 57 punti di fissazione, sposta lo sguardo 57 volte, un bambino non dislessico 16, vuol dire che il bambino dislessico fa tre volte tanto il lavoro del non dislessico e se il significato io glielo metto in dodicesima riga, non ci arriva a leggere la cosa importante, si ferma prima, perché ha un'elaborazione processuale completamente diversa e svolgono delle ipotesi diverse, non riescono a farsi domande e quindi la loro azione non è consapevole, noi non dobbiamo costruire degli automatismi, noi dobbiamo costruire delle consapevolezze, perché risolvetemi questo compitino per favore, grazie. C'è qualcuno in fase non REM? Volete un caffè? Della sostanza stupefacente? L'hai risolto Scalabrini? Quando l'ho portato in redazione in Mondadori attacchi di panico, tentativi di suicidio, banalissimo, che cos'è? È un compito dove non ci sono regole, non c'è nessuna indicazione, è tutto via viso percettiva, ok? Se qualcuno ha delle allucinazioni vi lascia un biglietto da visita, non è un problema. E come fate a dedurre la regola? Partite da qua e dite colui il quale ha costruito il giochino, il maiale, che cosa fa? Mi ha fatto ruotare questa roba qui in senso orario. Ah, facile, basta ruotarlo in senso orario. Ma poi il crudele che cosa ha fatto? Qua l'esterno in senso orario, l'interno in senso anti-orario. Essendo io strutturalmente perverso non posso fare delle cose banali. Ma in realtà che cosa succede? Che nel distrattore vi ho messo un pallino nero e che cosa fa quello lì? Serve, non serve, è utile, non utile. Tanto non vi do la risposta. Me la scrivete via mail, poi vi lascio la mail. Che cos'è questa? È un'esemplificazione di un compito che non richiede linguaggio, richiede astrazione attraverso un canale viso-percettivo che elabora le informazioni presentate dalle quali voi derivate delle regole non espresse. Una volta che voi fate questo compito e vi assicuro che ce la si fa, se io vi ripropongo un'altra matrice e voi dite ah ma è come quella di prima, è facile, uso la stessa regola. Cioè avete appreso una regola, l'avete astratta, l'avete compresa, l'avete applicata, avete avuto un risultato positivo e la generalizzate. Beh, sarebbe molto carino farlo sempre. peccato che noi abbiamo sempre pensato che l'abilità entrassero in un circuito come questo. Cioè io ti do una conoscenza, tabelline, vedo se tu sei capace di farlo, quindi se sei abile, se sei abile la conoscenza più l'abilità diventa una tua competenza che poi porta la capacità di fare le tabelline. Tavanata galattica, tavanata si può dire, no? Avrei usato un altro termine che inizia con M e finisce con non posso dirlo, ma questo è un vecchio stile, non funziona più così, perché tutti noi abbiamo delle abilità, ragazzi e ragazzi. Chi dice che la mia abilità è migliore rispetto alla tua è diversa. I nostri bambini non arrivano in prima alimentare dicendo maestro ho fatto tutti i prerequisiti, sono bravo, pronto, allineato, mi faccia fare quello che vuoi. Ma no, arrivano sfasati, arrivano da storie culturali, socio-economiche, familiari, completamente diversi. qualcuno ha automatizzato delle robe perché l'insegnante alla materna ha insistito sul linguaggio verbale, altra, innamorata della psicomotricità, lo fa saltare da un banco all'altro. Come faccio allora io intervenire su un gruppo classe così eterogeneo? Parto da qua, cerco di andare a vedere che tutti hanno delle abilità e cerco di vedere come tradurre le loro abilità in capacità, so fare una cosa, competenza, come la so fare, come posso farla per poi arrivare alla conoscenza di me. Perché se io mi conosco posso alimentare le abilità costruttive e inibire le abilità distruttive. Allora cognitivamente è il risultato di questo pensiero. Dobbiamo avere chiaro qual è la funzione percettiva che aiuta i nostri alunni ad immagazzinare informazioni. Visiva o uditiva sono le principali non sono le uniche. Queste capacità percettive si traducono inevitabilmente in pensiero, in una logica. Ai miei studenti universitari cerco di spiegare che fare una torta a margherito o costruire una centrale termonucleare è la stessa cosa. Elementi diversi con complessità diverse ma si parte da A poi si fa B poi si fa C per arrivare alla conclusione. è il pensiero e la metodologia che sta alla base cioè problem solving. Wilbur Schmidt sociologo dice che l'impoverimento della nostra società è legato alle corse in bicicletta. Lui correva in bicicletta 200 partecipanti arrivava a ottantesimo premiazione primo coppa secondo coppa terzo coppa quarto coppetta partecipanti coppina 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 un sacco di coppe che cosa abbiamo fatto? Abbiamo svuotato il premio del suo significato secondo abbiamo passato l'idea che tutti devono avere un premio non è vero non è così il nostro premio deve essere la costruzione di un mio sistema vincente che poi crea ideazione a to ho capito che la torta margherita con un po' di sale funziona meglio ho imparato quella roba qui la comunico e la generalizzo in altri ambiti e poi vado a vedere cosa succede in ambito didattico chiara che doveva tenermi il tempo quanto manca? 20 minuti? oh beh allora sai quante parolacce dico vabbiamo avanti altro problema come faccio a vedere se quello che faccio lo faccio bene? la legge la normativa ci chiede di fare una valutazione sui piani didattici personalizzati ok? una volta istituito il PDP fatto firmare da tutti i genitori portato all'interno del corpo a gruppo di lavoro bla 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 poi bisogna vedere se quello che faccio funziona davvero come faccio a valutare? scordatevi il voto credo che tutti sappiamo che il voto ha una sua funzione ma non è esaustivo la valutazione è una visione molto più complessa che è passato dal 5 al 6 perché vi dico questo? perché ci sono dei nostri colleghi purtroppo che con la certificazione di SA gli do il 6 così non ho rompimenti di scatole non so nella vostra esperienza ma nella mia esperienza purtroppo capita anche questo la valutazione è un'altra roba cioè se è vero che abbiamo questi elementi da valutare quali conoscenze ho valutato? ho valutato la capacità didattica la comprensione dell'obiettivo didattico la sua generalizzazione che cosa? quali abilità ho stimolato? che cosa ho fatto io per far sì che lui possa avere ottenuto un risultato lui è in grado di spiegare quali sono le sue competenze ma soprattutto quali capacità esprime questo è un livello di valutazione estesa perché diventa efficace perché andiamo a prendere il nostro alunno in una visione più complessa 1976 liceale terzo anno di liceo classico aveva un patrimonio linguistico di circa 1500 parole nel 2008 500 cosa vuol dire? non solo diminuzione culturale vuol dire che il linguaggio è quella cosa che mi spiega la realtà più parole io ho più riesco a costruire una rappresentazione complessa e sofisticata del mio reale ma ancora di più riesco a spiegare a me stesso che cosa sento se voi prendete un soggetto con un impoverimento lessicale e gli mettete di fronte una realtà complessa non la capisce e che cosa fa uno quando non capisce evita la sposta allora noi non dobbiamo permetterci di perdere questo tipo di progettualità dobbiamo renderla semplice e pragmatica sto per dire una cosa che spero non sia conveniente non sono qui a vendervi un folletto è chiaro? cognitivamente è un'elaborazione teorico pratica che vogliamo abbia un riscontro reale non solo commerciale perché la nostra visione è tradurre le buone pratiche non in parole instrumenti che non complichino la vita la semplifichino a voi e ai vostri alunni allora questo vuol dire che abbiamo ottenuto un successo non solo economico ma come diceva Cristina culturale cognitivamente che cosa fa? è un quaderno a livelli che permette di fare una valutazione personalizzata dell'alunno che va in appoggio alla chiappa storie e alcune parti di questo quaderno vengono esplose poi vedremo come nella guida per gli insegnanti che non solo vi racconta il pippone che non è una parolaccia che vi ho appena detto io ma che vi spiega come rendere quel quaderno un laboratorio aperto per potervi permettere di prendere i vostri materiali e di ricostruirli con quella logica perché? perché noi abbiamo pensato che le competenze cognitive che sono gli stili cognitivi più le abilità devono essere valutate devono essere analizzate devono essere comprese e misurate come matematica e italiano abbiamo presentato due categorie matematica e italiano didattica per prima seconda e terza primo livello e che cosa abbiamo presentato? un testo narrante che cosa vuol dire un testo narrante? un testo che ha una metodologia che accompagna alunno e insegnante in un processo quali sono le metodologie? due una metodologia verticale cioè la pagina è organizzata all'interno della sua schermata in livelli crescenti che hanno una difficoltà crescente e non solo verticale ma anche orizzontale cioè tra le pagine esiste una matrice una struttura sottostante che è riconoscibile tra pagina e pagina e pagina perché la prima pagina è appena preso la patente la ventesima pagina adesso so come guidare l'auto e quindi ci impiego meno tempo a orientarmi all'interno degli argomenti didattici presentati e l'insieme di queste due strategie dovrebbe portare a acquisizione e potenziamento ma soprattutto a integrare a avvolgere coinvolgere stili cognitivi diversi neanche una piccola parolaccia no questa potrebbe essere detta una cosa molto bella sì ma me la fa vedere perché non ci credo sono San Tommaso no? se no copravo il folletto o il bimbi bimbi non è male vendiamo noi bimbi no niente peccato allora metodologia verticale questa è una pagina non è una pagina prototipo è la pagina che trovate già nel testo va a esplorare la lettera M vedete che ci sono i quattro livelli indicati come le tacchette dell'antenna del cellulare la prima tacchetta va a vedere i prerequisiti di che tipo di prerequisito parliamo sempre di un prerequisito cognitivo e di un prerequisito didattico cognitivo vuol dire che cosa andare a esplorare quelle capacità che sono fondamentali per acquisire le informazioni i miei colleghi che fanno certificazioni scrivono delle idiozie idiozie non è una parolaccia quando scrivono difficoltà nella comprensione del testo che cacchio vuol dire niente io sono miope porto le lenti a contatto se tolgo le lenti a contatto e mi mettete davanti a un testo comprensione zero difficoltà nella comprensione del testo uguale no perché magari leggo male inverto non percepisco ho un'attenzione selettiva e sostenuta che dura 5 minuti e poi crollo c'è una diversità di spiegazioni e quindi andare ad esplorare se la loro funzione cognitiva è integra ci permette di dire ok percepiscono bene quello che devono percepire come faccio a esplorarlo cerca e colora la lettera m non gli chiedo di leggerla non gli chiedo di scriverla gli chiedo solo di riconoscerla il riconoscimento è più facile della rivocazione e che cosa abbiamo fatto target m distrattori cioè la m ruotata che cosa mi aspetto io dei miei bimbi guardate che molte di queste pagine le abbiamo sperimentate su dei poveri bambini ignari tra cui mia figlia terza elementare e la figlia della Scalabrini possiamo dirlo quindi le abbiamo usate come cavie povere infatti abbiamo già un'assicurazione sulla psicanalisi per i prossimi cent'anni che cosa vi chiedo di fare riconoscere questo elemento che poi impareremo a essere m ma se io segno questo io posso chiedere al mio alunno che fai ma maestra è la stessa cosa ruotata no ciccioppetta non è così chi è che fa inversione delle lettere dislessici ok quindi la presentazione dell'inversione della lettera potrebbe eventualmente essere ricordatevi che non si fa non si deve fare diagnosi se non tra la seconda e la terza elementare prima elementare è troppo presto questo è per il requisito cognitivo e per il requisito didattico gli chiedo di riconoscere quella roba lì ma attraverso che canale fonologico poi sviluppo attraverso una diversificazione della presentazione del materiale lo svolgimento del mio compito didattico vero e proprio fino ad arrivare all'esercizio diciamo più complesso ma guardate l'ultimo esercizio lasciate perdere cosa c'è scritto cosa riconosciamo qua la quadrettatura perché abbiamo messo la quadrettatura non solo perché rappresenta un texture cioè una struttura percettiva di base che soprattutto sulla disgrafia e la disortografia aiuta i bambini a orientarsi ma perché poi il loro strumento prioritario di interfaccia è il quaderno e nella quadrettatura loro hanno uno spazio decodificato per inserire quelle robe che si chiamano consonante o vocale oltre a questa che è la rappresentazione della metodologia verticale abbiamo anche la metodologia orizzontale cioè la ridondanza di informazioni attenzione ridondanza di informazioni non vuol dire cut and paste copia e incolla vuol dire diversificare i compiti ma mantenere sempre quelle strutture percettive e analogiche che riorientano all'interno della pagina molto velocemente questa presentazione ha molti difetti ma ne ha una gigante è più difficile raccontarvelo che farvi vedere come funzionano i bambini perché provandolo sui bambini inconsapevolmente grazie alla memoria incidentale loro riescono a visualizzare queste cose fanno fatica un po' a raccontarle ma le percepiscono che cosa fa cognitivamente si rivolge quindi a tutta la classe non è un quaderno BES è un quaderno che va a analizzare tutta l'eterogenità del comportamento cognitivo e in particolar modo cerca di far emergere quelle che sono gli andamenti tra virgolette mediani quelli sottodimensionati quindi BES ma anche quelli sovradimensionati le eccellenze ci sono dei bambini che hanno potenti intellettivi molto alti che i primi due livelli non li vedono neanche questo per noi è un'indicazione importante ma ancora di più la cosa interessante è che la pagina presenta che cosa? una percepibilità di indicazioni sia implicite che esplicite ci sono dei box dei pop up cognitivi che ti dicono ricorda stai attento guarda che la regola è prima della moltiplicazione fare l'addizione e via dicendo ma anche impliciti dove SCA viene riprodotto dallo stesso coloro all'interno di tutta la pagina quindi percettivamente si fa presto andare a individuare che cos'è e dove lo posso ritrovare ancora di più c'è una matrice strategica che racconta al bambino i passaggi che deve fare attraverso che cosa? a volte episodi narranti che sono invertiti perché invertiti? perché l'inversione è la riproduzione del stesso materiale partendo da 1, 2, 3, 4, 5 10, 9, 8, 7, 6 più automatizzata avanti e indietro più è facile ricordarlo ma ultima quanto ho? 5 minuti? 10? wow ma ultima ma non meno importante è la dicitura per l'insegnante che vi dice a pie pagina prerequisito didattico che viene indagato funzione cognitiva indagata e obiettivo didattico all'interno di questa pagina e ancora di più se questa pagina viene esplosa in guida che cosa vuol dire l'esplosione in guida non è un attentato alle vostre valutazioni diciamo così scolastiche ma è il risultato di questa idea questa idea è e se il mio bambino non ce la fa che cacchio faccio io? cosa faccio? una volta avremmo detto stimolalo potenzialo glielo riproponi glielo perdita di tempo dobbiamo fare una valutazione di tipo strategico nel senso che se gli abbiamo dato i prerequisiti cognitivi didattici gli abbiamo dato un obiettivo e un'attività didattica abbiamo verificato se l'obiettivo l'ha raggiunto e lui l'ha fatto non c'è problema andiamo avanti ok? ma se non l'ha fatto se si è inceppato qual è il problema? dobbiamo andare a vedere quale può essere il livello su cui lui è inceppato potrebbe aver avuto un problema di prerequisito quindi devo potenziare i prerequisiti potrebbe aver avuto un problema nella comprensione di quello che è l'obiettivo di quella unità didattica e quindi glielo devo rimodulare cioè glielo devo dare in una modalità differente che diventa diversificata quando l'attività ha bisogno di uno stile cognitivo complementare se il bambino dislessico ha una riduzione dell'attività corticale nell'emisfero di sinistra linguaggio ha un'iperattivazione dell'emisfero destro viso spaziale quindi vuol dire che se a un non dislessico date un testo e a un dislessico date delle vignette funzionano tutti e due molto bene perché usano canali e stili cognitivi diversi fino ad arrivare e questo credo che sia il pezzo forte di tutto il progetto adesso ve lo faccio vedere la personalizzazione cioè la costruzione di una verifica da somministrare ad all'unni alla classe mi fai così come per dire hai rotto le scatole velocizzati ok ho quasi finito all'interno della quale poter vedere quale è la valutazione che io posso fare sulla prestazione didattica e quindi come? vado avanti buff qua abbiamo m e n che cosa faccio? in esplosione vado a vedere potenzia che cosa potenzio? i prerequisiti didattici cognitivi i prerequisiti didattici cognitivi vengono rappresentati da degli esercizi questi esercizi sono specifici per potenziare i prerequisiti ve ne faccio vedere uno questo aguzza la vista ogni volta che trovi questo disegno coloralo di arancione ogni volta che trovi questo disegno coloralo di verde cosa centrano quei disegni con m e con n teoricamente niente praticamente si chiamano defrag cioè se voi date un percetto a un bambino lo spaccate e glielo rocombinati in una forma non canonica per la sua retina m e quella roba lì sono la stessa cosa identici infatti se notate questa qui è una m e questa qui è una n invertita noi non chiediamo ai bambini m o n chiediamo di individuare quelle cose lì e se io bambino con la vista becco questa e becco questa corretta non posso non beccare m e n perché vuol dire che la funzione percettiva è adeguata rimodula obiettivo didattico viene presentato in una rimodulazione diversa quindi attraverso degli esercizi che vanno a vedere come proporre il mio obiettivo didattico in una forma alternativa che viene nel diversifica potenziato rispetto agli stitili cognitivi guardate il primo esercizio in ogni cornice disegno un oggetto con il nome che inizia con i suoni scritti sotto mu che cosa vi viene in mente mu bravi mucca parole ad alto funzionamento noi una volta dicevamo A di ape B di banco C di non posso dirlo chi dice che a me mu debba per forza avere in mente una mucca perché io devo associare un'immagine che per me nella mia cultura non c'entra niente lo chiediamo a loro di disegnare cosa interessa a loro per riconoscere la mu magari la caramella mu mulino a vento mugnaio muletto mi fermo questo perché diventa un diversifica perché attraverso uno stile cognitivo percettivo chiede a loro di evocare immagini diverse guardate il personalizza e ho finito 5-4 minuti il personalizza che cosa presenta una verifica che va a rivalutare prerequisiti obiettivo bla 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 ma questa verifica è stata costruita per livelli dal più semplice viso percettivo al più complesso cioè ovvero qui per svolgere quel compito dovete aver imparato tutto percezione cognizione e obiettivo didattico finalizzato cosa ha di interessante questa pagina non solo è una verifica e chi se ne frega ma questa verifica vi dà in guida l'analisi dell'errore partendo dal concetto del rango percentile noi sappiamo in letteratura che se un bambino svolge almeno il 75% di un compito quel compito lo sa fare non è casuale quindi noi prendiamo la prestazione la dividiamo in percentili e vi diciamo il bambino che raggiunge uno è sotto il 25% no buono se un bambino fa da 2 a 3 sta tra il 25esimo e il 75esimo lì lì se va sopra il 75esimo percentile buono e noi che cosa vi suggeriamo le correzioni da fare se il bambino prende uno attenti perché probabilmente ha un'inversione grafema fonema attenti alla fonologia attenti alla memoria se il bambino prende da 2 a 3 attenzione potrebbe avere un rallentamento prova a suggerirgli di canticchiare o per favore fatelo ancora imparare le poesie a memoria grazie che allena la memoria google maledetto quando è nato Luigi Pirandello www.google.com Luigi Pirandello e io mi dimentico di imparare non costruisco più delle strategie imnesiche vado avanti questo vi permette di avere colorimetria punteggio sulle pagine per ogni singolo soggetto ho un minuto ho un minuto e voi dite ancora lavoro in più no secondo me lavoro uguale ma meglio perché questa è una simulazione reale bambini a cui è stata somministrata una pagina i colori fanno non si vedono questa doveva essere verde questa gialla e questa rossa che cosa succede questo bambino va a cavallo tra il giallo e il verde questo bambino molto vicino al verde e via dicendo cioè ho messo in un foglio excel da capra i risultati no no è proprio il videoproiettore grazie ma non è colpa vostra già provato eh lo so ho messo in excel i punteggi che i bambini hanno avuto in quella pagina appunto ok niente di straordinario poi che cosa faccio gli do diversifica potenzia rimodula la rave la fava e glielo faccio rifare boom cambia perché grazie l'hai stimolato e quindi questi bambini hanno un cambiamento nel loro punteggio ma glielo faccio fare un'altra volta perché succedono dalle cose strane questo qua migliora di poco questo qua migliora questo qua migliora questo qua peggiora perché buh mal di pancia mal di testa mal di denti caccarella non è parolaccia glielo faccio fare una terza volta boom potrei farlo n volte che cosa succede che se io applico una formula che si chiama sottrazione seconda elementare io posso sottrarre dalla prima prova la seconda prova e vado a vedere quanto il mio bambino si è spostato e poi sottraggo dalla seconda prova la terza prova e vado a vedere se il mio bambino ha continuato a spostarsi nella stessa direzione o è andato in una direzione diversa tradotto così ci sono dei bambini che hanno degli andamenti sempre nella stessa direzione migliorano ci sono dei bambini che pur migliorando rimangono abbastanza lì e ci sono dei bambini che fanno esattamente il contrario boom crollano su chi impiego di più la mia attenzione su questo perché? perché questi qui hanno un andamento che comunque è costante stanno macinando questi qui continuano a fare passi in avanti probabilmente hanno macinato bene perché questo si ferma? perché torna indietro? non lo so è l'abilità di una brava insegnante capire perché perché magari è qualcosa che non c'entra con la scuola è un problema suo o magari c'è qualcosa che c'entra con quella letterina lì con quella vocale lì con quella sillaba con quella parola con quel testo e allora lì io focalizzo la mia valutazione provate a immaginare usare questo per verificare come vanno i PDP lo costruisco a novembre modifico col gruppo classe gli somministro la roba dopo un mese gliela rifaccio e vado a vedere e se va meglio siamo tutti contenti e felici soprattutto il bambino come voi che adesso sapete che smetto di parlare grazie e buona continuazione grazie